Prova, prova, prova. C'è il make-up o qualcosa? È un solo recording? Natale per me è festeggiare che Dio sia fatto piccolo per vivere con noi. È il momento di stare insieme come famiglia, è un momento di gioia, è un momento di celebrazione come famiglia. La comunione di anima, il perdono, è tante cose buone che possiamo fare come noi stessi e anche come esseri sociali. Questo per me è questo della famiglia. Quest'anno amici. La novità dell'amore. Lavoro. Tutti veniamo insieme, chi viene da lontano, chi viene da vicino e ci mettiamo insieme per mangiare, anche per andare a messa certamente, non senza dubbio. Accendiamo una candela con la torta così cantavamo tanti auguri a Gesù. Penso che questo anno sarà molto diverso. Proprio lasciare e rinascere. Quest'anno mi aspetto un Natale molto più rilassato, molto più tranquillo, visto che non sto a casa. La cosa più bella sarebbe che si fosse la pace in tutto il mondo. Sfidante. Soprattutto perché c'era la guerra, c'era tante cose nell'economia che è successo, però penso che è anche un anno di speranza. Ho incontrato tante persone che vogliono costruire un mondo nuovo come noi. Questo Natale lo festeggerò lontano dalla mia famiglia. Allora è un po' diverso, ma grazie a Dio qui allo piano c'è una grandissima famiglia anche. C'è una del generoso che abbiamo fatto due anni fa che si chiama A Joy Reborn. Mi piace molto il villancico. Come si chiama villancico? No, no, una sola, non mi ne piacciono altre. Snowman di Sia. Child of Light dio con noi Emanuel. El Burrito Sabanero. Burrito Sabanero. O Holy Night. Holy Night? Astro del Cielo. Escompte un schifo geladen e Maria durch un Dornwald ging. I saw Mommy Casing Santa Claus di Jackson 5. Buas festas, novos baianos. De mio paese, significa che un bambino è stato nato per noi. Onganga va tuchitiva. Quelle Angeli bene non sono buona cantante, sino te la cantamo. All I want for Christmas, it's you. Il mio paese è un cibo a base di pesce, che sarebbe un kalulu. Facciamo noi tortellini a mano, tutti insieme. Il cibo di me. Turron, non c'è Natale senza polo. L'assado anche non può mancare, di solito si mangia il maiale. L'agnello. Buonissimo. Non deve mancare anche il maiolino al forno. Spero davvero sentire la pace in tutto il mondo, anche fermare la guerra in tutti i paesi che soffranno adesso. Auguro a tutti quanti di fare la stessa esperienza che sto facendo io qua all'Oppiano. Almeno per ora sono ancora felice di stare con i ragazzi che stanno facendo adesso il video e con tutti quelli che vivono con me questa esperienza. Io pensando in questo periodo, anche fa tanto freddo qua, mi venivano in mente delle persone che non hanno una casa o hanno perso la casa per causa della guerra o calamità naturale. Allora io vorrei dire a loro, a tutti loro, che io sono qui a pregare per loro. Che sia un anno di pace, di gioia. C'è il suo bambino che nasce tra noi, che ci dia tanta pace e amore e speranza. Gioia e felicità. Trovare la gioia profonda del cuore e riuscire a portarla avanti ogni giorno. Che ogni giorno sia Natale per noi, che ogni giorno sia un momento di rinascita. E' intanto di fare per Natale un'esperienza di famiglia autentica, che anche dopo il tempo della pandemia c'è da ricucire relazioni, sentimenti, esplicitare questi sentimenti anche con il calore di una stretta di mano, di un abbraccio. Feliz Natale! Buon Natale! E buon Natale! Buon Natale! Just photoshop my face out of it. Come se dice salvadore in italiano?